Il 3 aprile, nella prestigiosa cornice dell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, si è tenuto l'interessante workshop di infoprogetto dedicato al design del benessere. Tavole rotonde tecniche e scientifiche per l'incontro tra i professionisti del settore e i progettisti d'architetti. La scelta dell'azienda di partecipare a un evento come questo, come quello odierno, è stata quella di rivolgerci al pubblico degli architetti, quindi a questo tipo di professionisti, perché pensiamo che si sposi con le nostre filosofie aziendali e le nostre filosofie di prodotto. In quanto riteniamo di avere un palcoscenico di prodotti estremamente particolare, se vogliamo, nel loro design, e quindi scegliamo come committente e quindi come anello d'unione tra l'utente finale e l'azienda, l'architetto, quindi un professionista del settore. Oggi appunto presenteremo in anteprima, in pre-anteprima, perché la vera anteprima mondiale sarà poi in occasione del Salone del Mobile, che sarà settimana prossima, un prodotto del nostro catalogo .bat, che si chiama Tweet, quindi questa nuova serie Tweet, che vede protagonista il colore, dove va ad esaltare ancor più la sensibilità nel rispetto dei confronti dell'ambiente, quindi una scelta di colori naturali che ricordano all'utilizzatore finale sempre in questa inclinazione nei confronti di un rispetto ambientale. ambientale.